la festa di santa gemma la santa nata nel 1375 a san sebastiano di bisegna ma cresciuta a goriano sicoli è per i gorianesi una ricorrenza importantissima la più sentita e amata ma possiamo dirlo senza tema di smentita che lo è anche per chi ha sempre partecipato a quella ricorrenza il complesso bandistico città d'introdacqua diretto dal maestro vito di benedetto che ha voluto sorprendere i gorianesi e omaggiare la santa partecipando virtualmente alla festa che ricorre proprio in questi giorni l'idea è nata da un giovane bravissimo trombettista alessio di benedetto che ha pensato di realizzare qualcosa che facesse sentire ai gorianesi e alla santa la vicinanza della banda seppur virtuale nascono così due video con l'esecuzione del brano mosè la banda ha ricordato l'arrivo della santa con gli abitanti di san sebastiano nel paesino di goriano sicoli che di solito avviene l'undici maggio nel secondo video invece in cui la banda esegue la marcia america hanno voluto celebrare i festeggiamenti del 12 maggio emozionato il sindaco rodolfo marganelli e tutta la cittadinanza ringraziano commossi la banda del maestro di benedetto e suoi bandisti da sempre presenti alle celebrazioni e che con questo gesto non hanno fatto altro che suggellare l'amicizia la stima e l'affetto che lega i due paesi è proprio vero la musica unisce e questa volta rinsalda legami autentici che nemmeno un virus può scalfire vero la musica unisce e questa volta rinsalda legami autentici che nemmeno un virus può scalfire